Ragazzi, YouTube fa cagare, non è una parolaccia, il nome è di un canale YouTube molto famoso. Perché? Perché diversi anni fa Simone Santoro, attualmente uno dei protagonisti del famosissimo, popolare anche giustamente, Cerbero Podcast, ha fatto lo scompiglio, ha seminato veramente caos e distruzione quando ha lanciato dal niente un canale che aveva guadagnato in pochissimo tempo una popolarità pazzesca. Per l'appunto, YouTube fa cagare e con questo canale YouTube lui aveva fatto una crescita esagerata, esponenziale, che nessuno credeva vera. Tutti pensavano che fosse qualcuno spinto da qualche forza oscura, pensavano che fosse un grande YouTuber che aveva creato un secondo canale di nascosto. Cosa faceva YouTube fa cagare? Faceva dei video di grande satira, ma faceva ridere di brutto, contro i più famosi personaggi e anche i più contraddittori personaggi di YouTube in quel momento. E lui non si faceva vedere in faccia perché mostrava dei gameplay, quindi delle partite di videogame, mentre fuori campo questa voce, lui è una bellissima voce, questa voce molto da cantante, infatti si è scoperto può essere anche un ottimo cantante, buono, discreto, modesto, è bravo, è bravo Simone, è bravo, un bravo cantante, e raccontava peste e corna con un bellissimo copione scritto proprio per farti scompisciare. All'apice della sua carriera, a un certo punto si è esposto, ci ha messo la faccia, era anche entrato in Tom's Network, ha avuto modo di conoscerlo, di vederlo e di incontrarlo, e oggi ha ancora ragione, YouTube fa ancora cagare. Wewe caramici e cari amici, ciao a tutti, ben ritrovati, sono Roberto Buonanno, esperto in gestione di impresa, imprenditore di successo, le mie aziende in Italia hanno generato oltre 13 milioni quest'anno, 12 milioni l'anno scorso, andiamo molto bene, e sono qui, in questo canale, per parlare a chi di voi abbia la pazienza di ascoltarmi e voglia migliorarsi nella gestione professionale, creare un'azienda, migliorare tutto ciò che riguarda la propria attività professionale, ma non solo, magari anche crescere un po', come persona, con i consigli di questo maturo signore. Allora, ho parlato di Simone Santoro, che adesso si fa chiamare Dudubo, Tutubo, Dudubi, Dudubi, fantastico, fa troppo ridere, perché? Perché il nickname del suo canale è tuttola molto, molto attuale, perché YouTube fa ancora molto cagare. Ai tempi il Santorone nazionale, che non è quello che faceva il giornalista, o che lo ho fatto ancora, ma è proprio lui, Simone, criticava i canali YouTube un po' più, che dire, sulla cresta dell'onda, ma che avevano magari qualcosa di contraddittorio in quello che facevano, che ne so, i suoi attacchi più famosi sono stati ai tempi, me contro te, mi ricordo, Capobastone, ragazzi dovete recuperarla, ha fatto questa canzone contro Capobastone, che ai tempi era veramente un canale YouTube rilevante, Capobastone, tra l'altro l'ho conosciuto solo dal punto di vista epistolare, perché è un altro che non si è mai fatto vedere, e quello lì è stato proprio l'apoteosi, ragazzi, cioè fenomenale, e YouTube fa ancora cagare. E cosa vuol dire? Che l'avvento degli short ha distrutto la piattaforma. Non ho parlato in quest'altro video, che ha ricevuto tanti commenti molto interessanti, che adesso vado a discutere con voi, perché? Perché ritengo che abbiate aperto un dialogo veramente produttivo e che siamo veramente in tanti in sintonia sul fatto che la YouTube di oggi faccia veramente cagare. Ecco, quindi Simone Santoro torna tra noi su YouTube nelle tue vesti originali e bastona YouTube invece di bastona YouTuber. Ti prego, parliamo di questa cosa qua, perché la YouTube con gli short di mille chiappe, e ragazze che twerkano, e video brevi stupidi, e battutine, e commediole, a noi proprio non ci sta bene, a noi della vecchia guardia, ma anche ai ragazzi delle nuove generazioni. Hai già due piattaforme, tra cui una è TikTok, che è dominata da video spazzatura, non vedo perché tu per concorrere con TikTok devi riempirti di letame. Cioè, come per dire, guarda, quella città è sporca e inquinata, però ha un prodotto interno lordo video più alta della nostra, mandateci il camion di monnezza e rovesciateci addosso, perché sicuramente è così che anche noi andremo bene. Che metafora stupida. Allora, Ale ha scritto, YouTube deve eliminare gli short e tornare alla sua natura iniziale, i video lunghi, più contenuti di livello, approfondimenti, premiari tutorial, DJ set, performance artistiche. Ragazzi, su YouTube ci sono materiali pazzeschi, c'è anche divertimento, i gameplay, il comedy, c'è ogni tipo di personaggio buffo, comico, imbarazzante, c'è qualsiasi cosa su YouTube. Ma una persona che voglia studiare, fare delle ricerche su YouTube trova delle cose pazzesche, trovi analisi della Bibbia, istruzioni su come imparare tutte le lingue del mondo o quasi, trovi di tutto di più, il fai da te, il make-up, la cura del corpo, c'è tutto, è gratuitamente, cioè non è che sono tutti lì. Alcuni fanno magari qualche contenuto gratis per poi venderti degli approfondimenti a pagamento, ragazzi, ma c'è una quantità di materiale gratuito, pazzesca, corsi di decine di ore, e a volte trovi interi audiolibri, certo anche roba un po' piratina, perché magari non potrebbero essere lì, ma intanto ci sono, ci sono. E tu cosa mi proponi come alternativa per migliorare la piattaforma? Di farti ingroppare dal satanasso e andare verso il degrado totale, mondiale. Ebbene sì, è così ragazzi. Oggi gli short, perché noi della vecchia guardia li odiamo? Non solo perché qualcuno dei miei youtuber, non sono più miei, vabbè, dei youtuber dell'azienda Insieme Inesiment, di cui sono socio e fondatore, vanno male un po' i nostri youtuber, vanno male un po' le persone che conosco, quindi c'è un malessere condiviso che io acquisisco per osmosi. Il mio canale sempre faccio 200 visualizzazioni, non è che si sposta tanto, short o mica short. Questa camionata di monnezza che si sta scaricando sulla nostra amata piattaforma va a mettere in secondo, terzo, quarto e quinto piano i contenuti di qualità che spariscono, cioè proprio non ti appaiono più nei suggeriti, ma neanche appenare, soprattutto quando accede dall'applicazione mobile. Chi accede da computer ancora un po' si salva, ma in realtà sono pochissimi quelli che navigano YouTube da computer. Penso che adesso sia oltre il 95% la popolazione di YouTube che accede da schermi piccoli e da smartphone e simili. Ecco perché, a maggior ragione, sono diventati ancora più virali questi contenuti registrati in verticale che sono perfetti per lo schermo di uno smartphone. Nulla da dire, geniale, perfetto. Pensate che io ai tempi, dieci, nove, otto anni fa, quando vedevo un video in verticale, prendevo la persona per il collo e dicevo, prossima volta che registi un video in verticale, o giro la telecamera o ti giro il collo io e faccio snap. E invece adesso, digi, è tutto in verticale, che obbrobrio. Ma va bene, non è che si stava meglio quando si stava peggio, per forza, però, ma mi sto tagliando il ciuffo. Ma sì, fa niente, Montemagno si registra dalle sopracciglia in giù, fa niente. L'oracolo di sabbia. Ciao Roberto, secondo me il problema non è lo short, ma la qualità del prodotto. Purtroppo oggi la gente vuole capire tutto nel più breve tempo possibile. Infatti ho paragonato short, real e tiktok alla pornografia, quella di consumo rapido. Cioè andiamo direttamente alla scena, non stiamo a guardare la storia. E quindi gente che non vuole applicarsi. Quindi se uno short è breve e anche stupido, tanto meglio. Non devo neanche applicarmi a capire cosa sta dicendo. Ovviamente tutto questo sta contribuendo a rendere la società sempre più stupida, ma la qualità rimane nel tempo. Eh! Lui dice le cose frivole non durano. E invece no, amico mio. Pensa che dopo tanti anni certi cicli di cinema spazzatura sono stati rivalutati come grandi produzioni in Italia. Ma sempre spazzatura. Eh! Per quanto io stesso mi diverta a guardare Thomas Milan ogni tanto nelle sue performance, come si chiama? Comandante, ispettore, non mi ricordo più. Ermonnezza, ecco. E devo dire la verità, sono fin spazzatura, ma a livelli estremi. Quindi vai tranquillo che anche la porcheria che oggi domina i social network, un giorno qualcuno la rivaluterà come qualcosa di grande qualità. Non temere. Quindi, ma in realtà, io devo dire una cosa, non sono questi contenuti che rende la società sempre più stupida. È la società che ha fame di immondizia e quindi porta le piattaforme commerciali giustamente a fornire cibo per le loro pance avide di monnezza. Questa è... Zzzzz, commissà, 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 zzzzz. Storie dalla storia. Che bel nick, che bel handle. Eh, ci sono anche gli handle, ma va... Gli handle ci sono, ma invece di mettere gli handle. Che tra l'altro, quando ti hackano il canale, te lo cambiano e quindi tu ti perdi il tuo nome e cognome su YouTube alla che raggio del canale se qualcun altro è furbo e te lo frega per tempo. Pensa a migliorare le piattaforme. Io ho notato in prima persona sul mio canale un calonetto dei video tradizionali che è quello che sta facendo rosicare tutti i youtuber della vecchia guardia, ma anche della recente guardia. Youtuber orizzontali, li chiameremo, che fra poco saranno orizzontali sotto 3 metri di terra. Facciamo le corna, tocchiamo gli attributi. Noto un calonetto dei video tradizionali. Nonostante questi, mi costino molto più in termini di tempo e di lavoro. Non credo che la situazione migliorerà se YouTube non intervenga. Devo decidere cosa fare da grande. Vuole essere TikTok, vuole essere Twitch. Non può fare tutto, perché se fai tutto alla fine la gente si stufa e si confonde. Bravo, bravo. Storia dalla sabbia. Ha detto una cosa fantastica. Perché YouTube a un certo punto ha deciso di fare concorrenza a Twitch. E ha pompato la parte live, ha messo un sacco di soldi per la parte live. Adesso fa concorrenza a TikTok, pompa la parte dei video brevi, spazzatura. E adesso ci mette i soldi pesanti a partire da questo febbraio. Ma vogliamo focalizzarci? Caspita, YouTube era già una grande piattaforma così. C'era veramente bisogno di tutto ciò? Non lo so. Insomma, ho visto un calo anche sul tuo canale. Beh, ma soprattutto su quello di canali molto grandi, dei video tradizionali. A me onestamente non mi cambia. Ma chi deve guadagnare con questa situazione presto dovrà subire conseguenze. E quale sarà la conseguenza più naturale per chi ha deciso di affidare la propria professione a YouTube? Pubblicare più spazzatura. Ovviamente, allinearsi è quello che succede. Questa è la tazza di Erika Kawaii. Fil Orno mi dice questo. Non hai idea, Roberto, di che influenza stanno avendo i social in formato TikTok sull'attenzione dei bambini? Ma anche gli adulti. Eh sì, sono sicuro che tu intelligentemente monitori il tuo piccolo, mentre nella maggior parte dei ragazzi che seguo a scuola i livelli sono angoscianti. Spero che almeno YouTube non perda la sua forma iniziale. Averbe senso per YouTube fare una sorta di sottogruppo, tipo delle aree in cui accedere, dove avere solo determinati tipi di contenuti, come i tutorial, alcuni che insegnano qualcosa, e altre aree per l'intrattenimento. Guarda, non gli conviene, in realtà sì che gli sarebbe fattibile, tipo YouTube seria e YouTube spazzatura. Ecco, mettiamo come icona per YouTube spazzatura, siccome non so se avete presente, quando tutti i colleghi come YouTube Premium possono essere scritto YouTube e te c'è scritto Premium. Ecco, quando uno va nella sezione spazzatura c'è la faccia di Thomas Millian, che fa armonnezza. E quando vai su YouTube normale esco io, con l'attitudine professorale, con gli occhialetti, eccomi qua. Questa è la YouTube, quella dove si impara. Sarebbe interessante, ma tanto non lo faranno. L'importante per loro è fare monnezza, inventario, generare tante visualizzazioni su cui vendere pubblicità, e soprattutto non perdere il passo, non prendere distanza dai competitor. Giocherellone dice che gli short esistono perché esiste TikTok, ed è su TikTok che YouTube sta facendo la gara, perché TikTok sta dominando. E vi ricordo che la mia teoria del complotto è che se TikTok fosse stata americana o europea occidentale invece che cinese, oggi staremmo tutti su TikTok, avrebbe già dominato il mondo. Ricordatevi che tutto il mondo occidentale ostracizza l'avanzata di qualsiasi azienda cinese che opri nel mondo delle comunicazioni. E nonostante questo, sta dominando la grande. Ricordatevi questo passaggio, ragazzi, non sono in tanti a dirvela questa cosa qui, è molto importante. Consuelo, gli short sono il male del secolo. Beh, non esageriamo, però diciamo, nell'ambito delle piattaforme social, oggi i video brevi in verticale sono un male, un male che starebbe bene poter trasformare in un bene, ecco. Nico dice, mai fatti, Nico di, ah no, Nico, Nico Nisti, Iita, mai fatti, me ne fotto delle mode e vado per la mia strada. Non mi importa se è quella giusta, mi importa che sia la mia strada, non quella voluta da altri. E beh, caro mio, l'importante è che tu la gestione di social la faccia come secondaria e non come attività principale. Perché se invece vivi sui social, se hai aziende che generano fatturato clienti dai social, ti tocca seguire anche l'andamento di quelle belle piattaforme. Ale, ho rimosso TikTok dal mio telefono, è davvero demenziale, è il male assoluto. Siamo d'accordo, io ce l'ho ancora, devo rimuoverlo, guarda. Non c'ho quel telefono se non lo facevo in diretta. Proprio nella sua natura vedere video brevi in verticale impacchianiti di sticker aggiuntivi. Una roba iper opulenta e ignorante. Ignorante di brutto. Oh, poi ragazzi c'è gente che fa cose geniali, Alepie, Fafapix, Golden Jumpy, ma ci sono tanti che fanno dei bellissimi short. C'è chi onestamente fa delle brevi versioni dei suoi video lunghi, che ti invitano a guardare i video lunghi. Certo, non c'è niente di male. Il problema non sono i short, il problema è che tutti quelli che facevano i video spazzatura su TikTok sono sbarcati su YouTube ingombrando la piattaforma con milioni di video monnezza che hanno impallato gli algoritmi di YouTube, che nonostante quanto dica YouTube che ci sono due algoritmi diversi, uno per i short, uno per i video normali, oggi stanno decisamente offuscando le menti e occupando il tempo della maggior parte dei frutti della piattaforma. E quindi, se sei lì, non è che tu raddoppi il tempo, oggi potresti dedicare un'ora a YouTube, mezz'ora, venti minuti, se ne fai 18 su i short, evidentemente non andrai a vedere gli altri video. E quindi qualcuno, cioè un gioco, è quasi un gioco a somma zero. Introdurre i short nella piattaforma e avere l'invasione dei tiktoker che sono arrivati in massa a portare la propria roba, che non è tutta monnezza, attenzione, però la maggior parte è monnezza, cioè, purtroppo. Lo dico io, ma lo dicono anche altri, per fortuna. E chiaramente ha portato davanti agli occhi dei potenziali spettatori che hanno sempre allo stesso tempo una valanga di contenuti in più e quindi questi contenuti sono anche più assuefacenti, addictivi, come dicono gli americani, e quindi gioco forza che la gente rimanga incollata e lì a vedere chiappe, cose, cucine, ricette, battute, gag e poi non vado a vedere gli altri contenuti. E uno dice, cosa li faccio a fare? Cosa mi sbatte a fare? Perché sto lì ora a realizzare dei video pazzeschi che poi mi dimezzano, se non vanno addirittura un quarto o un quinto delle visualizzazioni che facevo un mese fa? Francesco dice, io su YouTube non li guardo proprio in short, se li voglio vedere vado su Instagram o TikTok, non certo su YouTube. Ebbè sì, fondamentalmente diciamo che tu rappresenti forse un target non esattamente medio delle piattaforme. Allora, la discussione continua. Spero che questo video sia visto chiaramente dall'amministratore delegato di YouTube che grazie ai miei saggi consigli deciderà di cambiare rotta e di affrontare una grave perdita economica nei confronti di una direzione netta verso la qualità. Sapete che non succederà, sapete che nessuno farà questo, le aziende perseguono il profitto, ma anche l'ego. E per YouTube, secondo me, a questo punto della storia delle piattaforme online, è una questione di ego. Essere stata sorpassata da una piattaforma cinese, che in Cina mi ricordano, non fa apparire neanche vagamente il nome YouTube, secondo me, gli sta facendo rosicare forte. E secondo me, l'azienda sta subendo anche fortissime pressioni politiche di quelle serie all'interno del proprio paese di origine, gli Stati Uniti d'America. Io ve l'ho detto, spero che la Cina Omega prenda mi. Un bacio, un abbraccio, aspetto i vostri commenti.